ok benvenuti a tutti e stasera si fa si comincia il giorno 4 dopo 80 conferme il caricamento psichedelico la volta scorsa eravamo rimasti nel castello e nei confini luogo di partenza posso dire perfetto così rimango a perché se vi ricordate eravamo rimasti proprio a metà del percorso da fare nel castello seguendo Caius perfetto era proprio qua tra una pedana e l'altra e l'ho scaduto il tempo non c'è niente da raccogliere ok peccato che non si vede un accidenti ok non c'è niente da and that's why they contradict each other some mules don't want him to die so they force him to keep on living Alcuni vogliono aiutare a morire, per che il suo corpo possa essere salvato. Ci sono spettacoli e spettacoli, è una massa contraddizione. Non voglio essere involvata. Tu già sei. Tu è stato giocato proprio nel medio. Cosa faccio? Perché non ti chiede? La verità. Non c'è una pedana a scacchiera. Ah, forse è l'oggettino lì. Eh, vabbè. Accidenti che braccia un mung. Questo qua sorbe il fuoco, vero? Sì, quindi niente, in miga. Ok. Accidenti, mi ha fregato l'attacco dell'altro là. Ok, perfetto. Ok. Ok, perfetto. Pozioni non ne ho più tante. Cavolo. Ok. Ciao, budino. Beh, al peggio c'ho sempre gli energiga. Nei punti che non ho usato. Però, se invece lo faccio, perché tanto vedo che si curano. E aumentano con i combattimenti. E' a sto punto. Per usarlo adesso, usarlo dopo. Eeeh, no. Mi lontano. Arriva. Ma neanche è morto. No, devo andare là. No, devo andare là sopra. No, devo andare là sopra. Guardate le balle, budini. Ma... E' la miseria. E' la miseria. No more lies. Just the truth. Troppo presto. Questo proprio non l'ho visto. Ok. True. Che ho rischiato là. Adesso non fai favore di prendertela, perfetto. Qua che si vede poco preferisco far così. Adesso voglio fare qualcosa per aiutare. Cosa significa? Cosa stai a culpare? Cosa stai a culpare? Cosa stai a culpare? Cosa stai a culpare? Sì, fanno ricomparire le cose. Cosa stai a culpare? Voi sparisce. Ok, hai roga, teniamo i niga con l'altro, va, qua c'è un'altra, qua c'è un'altra, e niente. Stasera, non mi va di saltare... Ok. Ok. Mi dice proprio di curarmi, che faccio cura, usando l'ultima pasione. E al massimo mi curo dopo, dai. Cosa patisce? C'è tutto, perfetto. Ok. 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 Finito? Si. Ok. 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 una attica E' un attacco fisico Sono preso, accidenti Io lo faccio Ok No basta No Adesso è un'energia che ci sta bene No 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 No